Siamo con Andrea Faroffi, dopo il vittore col Twain di Casei, Andrea un commento sulla corsa? Ma il cavallo è partito benissimo, ha rubato un nastro, io ho un grosso rammarico per il Gran Premio perché nel Gran Premio mi ha fatto il balletto, ero un po' nervoso ma ha una condizione che secondo me se mi parte e va in una pariglia vince anche il Gran Premio. La chiusa è stata davvero molto, non è neanche mosso le mani. È mostruosa, grazie.